Benvenuti a PCE Instruments, il vostro fornitore di strumenti di misura per l'industria, il commercio e la ricerca. PCE, Professional Calibrated Equipment. Benvenuti a PCE Instruments, sono Lucas Ludwig. Oltre alla nostra vasta gamma di strumenti di misura, offriamo soluzioni personalizzate. Queste possono essere implementate in modo veloce ed economico, grazie alla nostra lunga esperienza nei diversi campi di misurazione. Un cliente del settore forestale ci ha contattato e ha spiegato il suo lavoro di misurazione. Caricare un processore automatizzato per legna con una gru. Il tronco viene tagliato e quindi inserito nella spacciatrice. La legna spaccata finisce su un nastro trasportatore per caricare un veicolo. Il compito era di registrare il peso della legna spaccata, controllare il carico del veicolo e documentare le prestazioni giornaliere. L'approccio era la misurazione idraulica. Voleva integrare un sensore di pressione nel sistema idraulico della gru in grado di rilevare la pressione esercitata e trasformarla in peso. La soluzione è valida finché il braccio da presa ritorna nella stessa posizione. Per il nostro cliente questo ha richiesto troppo tempo, quindi è stata cercata un'altra soluzione. La seconda soluzione proposta dal cliente era quella di integrare una bilancia nella gru. Il problema qui è che il braccio di presa della gru è mobile e che è usato come strumento. Queste condizioni non sono ottimali affinché la bilancia della gru pesi in modo affidabile. La nostra soluzione è stata quella di pesare dopo averla tagliata. Il nostro cliente doveva pesare tra 500 grammi e 200 chili. Abbiamo proposto di pesare fino a 300 chili con una risoluzione di 50 grammi. Per fare questo, quattro sensori sono montati sotto un bilanciere situato dietro un cuneo separatore. Questi quattro sensori supportano fino a 500 chili ciascuno e si uniscono in questa scatola. In questa scatola, dove ci sono quattro ingressi, i segnali di ogni singolo sensore sono sincronizzati con l'aiuto di resistenze e inviati all'unità di lettura. Poiché la sega e la spacciatrice impediscono la stabilità del segnale, l'unità di lettura prende un valore medio di diverse misurazioni e la memorizza nella scatola. L'accuratezza di questo sistema dipende da queste condizioni e può essere adattata individualmente alle esigenze del cliente in situ. Dopo aver eseguito la pesatura, il sistema attiva un contatto affinché il bilanciere proceda alla rimozione. L'utente vede sempre sullo schermo il peso attuale che è stato caricato. Una volta raggiunto il peso totale, viene attivato un contatto aggiuntivo per il carico di materiale. Contemporaneamente, il peso totale viene stampato su un'etichetta. Qualcosa di molto importante per la documentazione del cliente. Inoltre, i dati con data e ora vengono salvati su una penna USB e la memoria interna viene automaticamente cancellata. Per iniziare un nuovo processo di pesatura, premere il tasto Start o... L'avvio è attivato da un contatto esterno. Il peso finale viene inserito direttamente dalla tastiera. È possibile interrompere il processo di pesatura in qualsiasi momento. La configurazione rimane salvata dopo aver spento la bilancia. Vi ho presentato una piccola visione delle possibilità che offriamo. Nel caso in cui si cerchi una soluzione di misurazione, si prega di contattarci all'indirizzo www.pcestrisciainstruments.com Scopri e trova i nostri strumenti di misura su www.pcestrisciainstruments.com Scopri e trova i nostri strumenti di misura sull'indirizzo www.pcestrisciainstruments.com